La De Giorgi è una battuta d'arresto contro Vivo come Valetta? Valetta intanto che Vivo ha giocato molto bene, sfruttando molto bene le qualità che hanno di difesa, di creare tante situazioni di rigiocata e hanno anche una buona battuta. Quindi credo che loro da questo punto di vista hanno fatto un'ottima partita, noi dovevamo fare qualcosa in più perché Primosetta abbiamo subito troppo in ricezione e quello ci ha compromesso un pochino. E dopo sulle fasi di contrattacco, cioè il giocare, il continuare a giocare, i palloni eccetera, spesso hanno vinto loro questi scambi, quindi alla fine si poteva girare in quel senso. Simone Anzani, una grande prestazione di Vivo, forse in un periodo un po' strano per voi? Sì, è un periodo strano, si gioca intermittenza, abbiamo le settimane tipo per lavorare bene, non è facile perché fino a due settimane fa avevamo il ritmo gara e giocare dopo due settimane dall'ultima partita non è facile, però non è una scusa. Secondo me dobbiamo essere bravi a tenere un determinato standard e non scendere da quel livello. Oggi è successo, purtroppo oggi abbiamo giocato troppo a sprazzi, troppo a fiammate e non siamo riusciti a esprimere una palla a volo costante. E questa è forse la chiave di lettura. Dopo logicamente loro hanno fatto una partita eccezionale dalla battuta, in difesa soprattutto, dove noi magari non siamo stati così bravi. Luciano Adescecco, Vivo ha giocato la miglior partita della stagione, probabilmente vi ha messo in difficoltà. Da quella rimonta dall'11-18 del primo set si è andato un po' in confusione. Sì, complimenti a Vivo, ha giocato una bellissima partita. Penso che non hanno giocato la miglior partita della stagione, se no che loro giocano così. Quindi tutti dobbiamo imparare a giocare questo stile di gioco che non è normale per Italia, ma niente, si va avanti e continuiamo a migliorare. Soprattutto in questi momenti di difficoltà che ne abbiamo avuto pochi fino adesso, è giusto così.